Allora, buongiorno, faccio questo video, anche se è sabato 16 ottobre, logicamente il video fa riferimento all'operatività della giornata di ieri che era appunto il venerdì. Allora, l'operatività si è conclusa ieri con questo risultato, che è un risultato dato prevalentemente da quello che è l'operatività sul ciclo giornaliero delle DAX per un'operatività di tipo log. Questa è l'operatività, c'è stata qualche operazione fatta sul bund per una chiusura di un 4 giorni di attività però sempre a intraday, che comunque è andata in stop, comunque non ha generato granché, così come una prima iniziale attività su quello che era uno sell del DAX, poi quando l'impostazione del piano di battaglia mi ha dato la conferma per il long, ho effettuato solo e soltanto long e due operazioni long, perché faticavo un po' a partire, poi è partito e quindi ho realizzato questo risultato. Allora andiamo a vedere un po' il perché e la motivazione di questa operatività. Beh, allora per quanto riguarda il bund, niente di particolare, cioè sto seguendo sempre quello che è il discorso del bund nell'ambito di un ciclo più lungo, che è l'intermestrale, che sto aspettando, confermo che questo mensile sia partito, quindi avevo preso uno short che poi un'altra mattinata è andato, per la chiusura di questo primo quattro giorni. Un quattro giorni molto importante da un punto di vista ciclico sul mensile per capire se effettivamente questo mensile sia partito o meno. Mentre per quanto riguarda quello che era il contesto in cui mi muovevo sul bund ieri mattina, era che ci troviamo in un ciclo di tendenza nettamente rialzista, sequenza di massimi e minimi crescenti, aveva chiuso il primo ciclo a quattro giorni, di un 12 giorni per il momento che sto seguendo, e stava sul secondo quattro giorni. Quattro giorni ha chiesto rialzista, indicatore di ciclo relativo il DNA, cioè di tendenza affittato molto bene, e quindi questa mattina, dopo un'iniziale operatività short, per alcuni piccoli segnali che avevo avuto su questa situazione qui, sono stato stoppato. Poi qui ho incominciato a lavorare quello che è un'operatività long, quindi mi sono preso il primo praticamente long qua, e poi successivamente anche l'altro. Poi ho chiuso nel primo nuovo Parigio, perché appunto la mia operatività comunque era finita. Quindi questa è stata un po' l'operatività della giornata di ieri, su quello che è dolci l'ultima dei del Dax. Ok, con questo è concluso, e ci aggiorniamo alla prossima. Un saluto a tutti.